bravo grazie scatto un commento eh un commento per tutti i miei allievi ahahah va eh intervista parla parla ehm siete nella storia Per voi, potete crescere e pensare che si deve combattere per voi, una grande rivincita dopo Rizzicoli, sono emozionatissimo, la temi tra voi e anche a te, Santino, sono nell'aria, sto andando all'ospedale. E' un pazzo.